Venerdì 12 febbraio si celebra la sesta edizione di Millumino di meno, la giornata dedicata al risparmio energetico lanciata da Massimo Cirri e Filippo Solibello, ideatori e conduttori della popolare trasmissione radiofonica Caterpillar, in onda dal lunedì al venerdì sulle frequenze di Radio 2. In sei anni l'iniziativa è cresciuta in maniera esponenziale, raccogliendo le adesioni di moltissime amministrazioni locali, non solo italiane. Da quest'anno le entrate nella grande famiglia di Millumino di meno, anche il comune di città Sant'Angelo e lo fa in grande stile, promuovendo in collaborazione con l'associazione Idee e Territorio una serie di manifestazioni di contorno. L'assessorato all'ecologia del comune angolano, infatti, lancia il primo concorso Accendi la mente, spegni la lampadina, rivolto agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, che si terrà venerdì presso il teatro comunale e vedrà la partecipazione di relatori di livello assoluto. Sabato e domenica, invece, al Città Sant'Angelo Village, spazio a convegni e a workshop di aziende leader nel settore dello sviluppo di energie rinnovabili. Il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Floridi. Abbiamo promosso l'evento proprio perché vogliamo essere conseguenziali con quello che abbiamo scritto sul nostro programma elettorale e quindi cerchiamo di mantenere compatibilmente con quelle che sono le risorse, le nostre promesse. Diceva lei in conferenza stampa è il momento del fare. È il momento del fare, infatti, dobbiamo tutti quanti rimboccarci le maniche a tutti i livelli, comune, provincia, regione, proprio perché dobbiamo garantire alle generazioni che verranno dopo di noi un alto livello di qualità della vita.